Buongiorno a tutti, sono Davide Barillari, portavoce dei cittadini al Consiglio regionale del Lazio. Questo messaggio è per tutti i cittadini del Lazio, ma soprattutto per questi buffoni che siedono in Consiglio regionale. Dopo un anno abbiamo capito che il Movimento 5 Stelle è boicottato per ogni azione che fa. Oggi presenteremo 4 atti, perché la pazienza è finita e iniziamo a dire basta su questo comportamento antidemocratico di cui siamo vittime. Il primo atto è diretto a Nicola Zingaretti, il nostro Presidente trasparente della regione Lazio. Abbiamo chiesto a ottobre e novembre dei dati sullo stato della sanità della nostra regione, dati che dovrebbero conoscere tutti i cittadini. Abbiamo chiesto per esempio la cabina di regia del Servizio Sanitario regionale, chi è, cosa fa, quanto costa. Abbiamo chiesto i bilanci finanziari delle ASL per sapere come si comportano e cosa non funziona nella corruzione della sanità. Abbiamo chiesto dati riguardo gli ospedali, quale sta chiudendo, quale sta prendo, come stanno gestendo la riorganizzazione territoriale anche sulle case della salute. Abbiamo chiesto per esempio i fondi europei, come sono utilizzati in ambito sanitario. Abbiamo chiesto la lista delle cliniche private accreditate per sapere come la regione sta pagando i privati e quali risultati stanno dando queste cliniche. Abbiamo chiesto anche i bilanci delle strutture private accreditate, cosa che non è mai stata fornita, così come l'organico degli ospedali per capire i trasferimenti e le chiusure in corso, perché sappiamo che tanti ospedali sono depotenziati volutamente per agevolare interessi privati. Vogliamo vederci chiaro. Abbiamo mandato questa richiesta ufficiale, un accesso agli atti alla cabina di regia, con Alessio D'Amato che attualmente ha qualche problema con la giustizia, a Floride Grassi e al commissario ad acta Nicola Zingaretti, questo a ottobre. Da ottobre nessuna risposta, abbiamo fatto un sollecito, una diffida il 20 febbraio e ieri ne abbiamo fatto un'altra, due diffide per avere informazioni che dovrebbero conoscere tutti i cittadini, non c'è mai risposta Zingaretti, quindi procederemo adesso per vie legali, annunciamo che stiamo valutando una denuncia per omissione di dati d'ufficio, quindi attendiamo il secondo sollecito e poi procederemo legalmente, perché queste persone capiscono solo con questi strumenti. Questo è un primo atto. Secondo atto, sempre che riguarda Nicola Zingaretti, abbiamo chiesto i verbali delle riunioni congiunte del tavolo tecnico per la verifica degli impimenti regionali, cioè capire il piano di rientro. Zingaretti sta discutendo con il governo, sta trattando per il rientro del deficit della sanità laziale, dovremmo uscire dal commissariamento nel giro di 12-24 mesi, ma il Consiglio regionale non sa nulla, quindi noi vogliamo avere accesso ai verbali, ai verbali delle riunioni pubbliche, di cosa Zingaretti sta raccontando al governo per permettere a questa regione di uscire dal commissariamento. Anche qua abbiamo presentato una richiesta formale il 21 novembre, chiedendo documenti di questi verbali, di queste riunioni segrete e nelle stanze chiuse, non c'è stato risposto, abbiamo fatto una diffida anche qua in febbraio, scaduta dopo 30 giorni per legge, devono fornirci i dati perché abbiamo richiesto secondo un nostro diritto, scaduta anche questa, oggi abbiamo fatto anche qua il secondo sollecito, se Zingaretti non risponde, anche qua andremo verso la denuncia per omissione dei dati d'ufficio, quindi non siamo qui a perdere tempo né a scherzare, facciamo il nostro dovere e se questa giunta che si definisce trasparenza e non dà le informazioni ai cittadini, informazioni di base, andremo per via legale. Poi il secondo atto, anche questo molto forte, la settima commissione consigliare che si occupa di sanità e politiche sociali, è una delle commissioni più importanti, dove discutiamo delle leggi che vorrebbero riformare la sanità laziale. Bene, noi dopo un anno di lavoro, abbiamo visto come funziona questa commissione, abbiamo fatto una valutazione e riteniamo che questa commissione faccia un lavoro insufficiente, inefficiente, non trasparente e addirittura a causa di un rallentamento nell'analisi dell'intervento sulle emergenze della nostra regione, noi siamo sommersi da cittadini che segnalano casi di malasanità, casi di ospedali che stanno chiudendo e nessuno fa nulla, pronti soccorso allo sfascio, questa commissione dovrebbe occuparsi dei problemi dei cittadini, in realtà in quest'anno non ha fatto assolutamente nulla e abbiamo segnalato in una lettera dettagliata, spedita una settimana fa a tutti i consiglieri, sono 14, per esempio che c'è una scarsa condivisione delle informazioni, la presidenza, l'onorevole Elena non dà informazioni ai commissari sullo stato della sanità laziale, oppure abbiamo chiesto l'audizione della cabina di regia che sta gestendo la riforma del servizio sanitario, ma è stata fatta, il commissario ad acta Zingret è venuto una volta sola in un anno a raccontarci quello che sta facendo, ma in termini di spot elettorale e poi non si è più fatto vedere, quindi è una commissione che dovrebbe parlare di sanità e non ha nulla a che fare, non ha nessun rapporto con il commissario governativo e né con la cabina di regia, quindi è proprio una illegittimata nel suo ruolo. Abbiamo chiesto per esempio informazioni sulle case della salute, dovrebbe essere il grande blef di Zingaretti, ma non si sa neanche quali case della salute esistono, a quali costi, quali benefici, avere informazioni per capire cosa sta succedendo, nessuna informazione, così come materiale non disponibile, convocazioni senza regolarità, assenza dei commissari, la commissione sanità è la commissione con meno presenze, abbiamo una media di 5 persone su 14 che vengono, firmano, se ne vanno, partecipano come se fosse veramente un luna par questa commissione e addirittura ci sono dei commissari come Bellini che vengono, leggono il giornale, sentono le persone che parlano e poi se ne vanno, abbiamo questo livello di serietà in questa commissione, che dovrebbe essere quella più importante, così come una webcam non è presente, abbiamo chiesto più volte per far vedere cosa succede ai cittadini, mettiamo una webcam, in modo che ci sia trasparenza, i cittadini possono seguire i lavori della commissione, non è mai stata autorizzata, anche qua per mancanza di trasparenza. E poi altre informazioni che abbiamo scritto in questa lettera, per esempio la gestione non trasparente delle audizioni, noi incontriamo le parti sociali per discutere delle leggi, ma noi chiediamo delle audizioni, non ce le autorizzano, mentre l'ENA autorizza altre audizioni, pensiamo che siano marchette elettorali o comunque siano modi per facilitare certe associazioni, certi sindacati rispetto ad altri, questo non è democratico. E poi le proposte di legge, una commissione che ha oltre 76 proposte di legge importanti sulla sanità, ma ne sono state approvate 4 in un anno, questa è proprio l'inefficienza e sono tutte proposte di legge della maggioranza, cioè la presidenza PD della commissione sanità fa passare solo le leggi del PD, questa non è democrazia, noi abbiamo proposte di legge importanti come il registro tumori, come la commissione chiesta sulla malassanità, sul caso del parto, sul criterio nomine ai direttori generali, queste proposte di legge sono state messe in un cassetto e non sono mai state calendarizzate, quindi c'è un problema di chi decide in modo non trasparente e perché si dà spazio solo alle delibere di giunta o alle leggi di maggioranza. E poi naturalmente l'ultima cosa, abbiamo segnalato che quando è stata bocciata la commissione di inchiesta sulla malassanità in consiglio regionale, il Presidente Elena si era impegnato per fare un passo in direzione di questa vergogna che hanno potuto votare, si era impegnato una volta a settimana nel convocare la commissione salute, la settima, presso le strutture sanitarie dove ci sono dei casi di malassanità per affrontare il problema. In oltre tre mesi la commissione non è mai stata convocata presso gli ospedali o verso le strutture dove ci sono casi di malassanità, questo era un impegno che il Presidente Elena ha preso in aula di fronte a tutto il Consiglio e non ha rispettato una sola volta. Abbiamo chiesto in questa lettera, abbiamo segnalato questa creatività e abbiamo proposto anche delle soluzioni, quindi non abbiamo segnalato solo cosa non va, abbiamo punto per punto anche fatto delle proposte su come andare avanti su questi punti, come fa funzionare la settima commissione. Tutti hanno avuto questa lettera, tutti i 14 commissari, in una settimana nessuna risposta, una riunione urgente che mi ha chiesto per affrontare questi problemi non è stata convocata, quindi oggi chiederemo ufficialmente le dimissioni, sia del Presidente Elena della Commissione Salute e sia dei Vice Presidenti Zambelli e Aurigemma che sono sempre PD e Forza Italia, che d'accordo con la Presidenza rendono questa commissione completamente inutile e addirittura dannosa per i cittadini, quindi questa lettera la invieremo oggi a queste persone coinvolte, ma anche al Presidente del Consiglio Leodori, al Presidente della Regione Lazio Zingaretti e a tutti i Presidenti dei gruppi consigliari, quindi non siamo qui né a perdere tempo né a scherzare, la Commissione Sanità deve funzionare, deve fare il suo lavoro, se no se ne vadano a casa. Gli ultimi due atti sono rivolti invece alla Presidenza del Consiglio regionale, cioè l'onorevole Leodori e l'ufficio di Presidenza, di cui fa parte Storace e altri personaggi della sua risma. Abbiamo chiesto anche qua trasparenza, abbiamo chiesto verbali delle riunioni, perché i verbali non esistono e vogliamo capire perché, per esempio, noi chiediamo di calendarizzare delle leggi urgenti e nessuno le calendarizza, vogliamo dal verbale vedere che si prendono queste responsabilità. Così come i verbali delle sedute d'aula, liste delle presenze, le presenze nelle commissioni, ho già detto che sono scarsissime, anche la presenza in Consiglio è la stessa cosa, c'è gente che non si fa mai vedere, prende 8 mila Euro netti al mese e non fa nemmeno il proprio lavoro, quindi abbiamo chiesto tutti i verbali delle riunioni e tutta la lista delle presenze, dall'insediamento ad oggi, un anno, e poi renderemo naturalmente pubblico tutto questo. Così come le sanzioni, cominate ai consiglieri, appurate all'assenza delle sedute del Consiglio, cioè la legge prevede già che se tu sei assente dal Consiglio, dopo 2-3-4 volte io ti tolgo, ti do una multa, ti tolgo una parte dello stipendio e vogliamo vedere se questa norma è stata applicata oppure si fa tutto così come se fosse un Luna Park. E poi così la lista delle missioni, sono consiglieri che vanno in giro per il mondo, in Italia o all'estero, si fanno rimborsare, vogliamo vedere chi lo fa e perché, che sia giustificato. E naturalmente c'è questa prassi veramente vergognosa del Presidente Zingaretti che lui non viene in aula, dice che ha un impegno istituzionale e quindi se ne sta in giro da qualche altra parte, anche durante le discussioni di leggi importanti come la protezione civile o altre che abbiamo trattato. Penso che in un anno sia venuto solo due volte in Consiglio, solo quando gli interessava. Noi lo chiediamo formalmente tutte le volte secondo un articolo dello Statuto che prevede che se un gruppo chiede formalmente la presenza del Presidente in aula, il Presidente deve venire perché è obbligato. Bene, a fronte di queste richieste multiple non è mai venuto in aula. Anche qua c'è una violazione evidente dello Statuto che vogliamo, con questa richiesta di accesso agli atti, chiedere esattamente i motivi e le giustificazioni per queste assenze ormai ripetute. E l'ultimo atto che presentiamo oggi, anche qua rivolto alla Presidenza del Consiglio regionale, è la giunta per il regolamento, che è uno strumento da statuto fondamentale. Questa giunta per il regolamento stabilisce come il regolamento può essere modificato e fa anche da arbitro rispetto ad alcune questioni che sono aperte come interrogazioni, naturalmente nel Movimento 5 Stelle non accettate, non discusse perché secondo l'opinione del Presidente del Consiglio Leodori sono inaccettabili o sono indiscutibili. Per esempio abbiamo fatto un'interrogazione sulla vicenda sterpa, sull'intercettazione di Cerroni, Concivita, queste interrogazioni molto scomode non sono neanche state portate in aula perché secondo il Presidente del Consiglio sono state considerate inappropriate. Quindi questa giunta potrebbe affrontare questo diverbio, ma in un anno non è mai stata convocata. Abbiamo un organo che dovrebbe stabilire come il regolamento funziona, ricevere commenti dalle forze politiche per modificare il regolamento, per mettere anche un passo in avanti, un regolamento che è vecchio di 20 anni. Noi abbiamo tante idee per migliorare queste regole, anche inserendo per esempio una webcam, inserendo delle regole che fanno funzionare meglio questo Consiglio, in un anno non è mai stata convocata. Quindi con questa lettera ribadiamo un'altra volta la fondamentale esistenza di questo organo e chiediamo al Presidente Leodori di convocare questa giunta perché non ci sono giustificazioni al fatto che in un anno non è mai stata convocata, volutamente perché si vuole lasciare tutto il sistema così com'è e sfruttare un regolamento che non funziona. Quindi questo è quello che facciamo oggi, capite che questa è una guerra, una guerra in cui noi stiamo giocando da un anno a questa guerra, ma non siamo più disponibili a avere fiducia in persone che ci continuano a chiudere la porta in faccia, parlano di trasparenza, di democrazia e poi nei fatti dimostrano esattamente l'opposto. Il Movimento 5 Stelle rappresenta la forza di opposizione più grande di questo Consiglio con il 20% dei voti, dopo la spaccatura di NCD, Forza Italia, quelle persone lì. Quindi o ci ascoltano o noi andiamo per vie legali, presentiamo atti in consiglio, ce li rifiutano, quindi da oggi questa cosa deve finire, quindi il messaggio che vogliamo dare è chiaro, abbiamo finito la pazienza, da oggi in poi basta, o si lavora seriamente e si parla di democrazia e si attua la democrazia, altrimenti viene andato tutti a casa. Grazie.